cari amici del gruppo appoggiando papa francesco su facebook il mio intervento di oggi la voglio fare sulla notizia che mi sembra molto importante come sapete in pakistan c'è stato un attentato nella chiesa anglicana di peshavar dove sono morte decine decine di cattolici e c'è stata una presa di posizione degli ulema pakistani che condannano questa strage che mi sembra molto importante sottolineare il titolo proprio dell'articolo preso dall'osservatore romano che ho conservato per voi è proprio molto bello perché dice è come uccidere l'intera umanità mentre in pakistan migliaia di cristiani sono scesi per manifestare in tutte le principali città del paese è stata annunciata una fatva da parte degli ulema pakistani nel quale si dichiara che l'uccisione di minoranze innocenti è contro l'islam i religiosi musulmani hanno chiesto al governo di escludere dal processo di pace quelle persone che sono coinvolte nell'uccisione dei cristiani aggiungendo che meritano anche una punizione esemplare per aver compiuto un atto così disumano nell'editto religioso questo è molto importante sottolineare perché abbiamo sempre un'immagine dell'islam sbagliata e fa più rumore una foresta un albero che cade che è una foresta intera che cresce e specialmente in questo periodo c'è un attacco al papa francesco da parte dei gruppi più conservatori della chiesa per questa sua apertura al mondo dell'islam in modo particolare sto pensando alle critiche che vengono da questo gruppo minoritario delle febristi che tanto male stanno facendo l'unità della chiesa e si cerca di fare tutta l'album fashion ma nell'editto religioso di questi ulema pakistani si dichiara che attaccare gli esponenti di un'altra religione è contro gli insegnamenti dell'islam e del profeta maometto gli ulema hanno ricordato che il corano e la sunna sottolinea l'importanza di proteggere la vita e i beni delle minoranze altri 30 ulema del consiglia sunnito di itead hanno messo poi un'altra fatva nella quale si afferma che l'islam non permette l'uccisione di innocenti non musulmani l'islam non permette attacchi contro le minoranze innocenti e ribadisce il suo mandato di proteggere le loro vite e i loro beni da questo capiamo com'è non è un problema della religione dell'islam è un problema di un gruppo di violenti che utilizza l'islam per le sue ragioni politiche qui non c'è religione l'editto continua dicendo nell'islam uccidere un essere umano innocente significa uccidere l'intera umanità da qui viene poi il titolo dell'articolo l'episcopato cattolico in pakistan ha dichiarato tre giorni di lutto e c'è poi un tweet dell'arcivescovo di Canteburi che in questo periodo è Justin Belby e sapete che nella chiesa anglicana si alternano cambiano in vita alla fine del loro mandato in questo momento l'arcivescovo di Canteburi in Inghilterra è Belby e il suo tweet è la bomba Peshwar rivela le profondità del male umano tuttavia chi soffre parla di perdono e di giustizia e questo è l'amore di Gesù mi sembrava importante sottolineare questo perché in seguito all'apertura e alla necessità di contatto che Francesco prendendo esempio poi a San Francesco che fece il famoso viaggio in Egitto proprio per cercare contatto con il mondo arabo ebbene proprio per le critiche che in questi giorni si muovono a Francesco da parte di quelli che vorrebbero una chiesa chiusa in una sorta di castello impenetrabile questa iniziativa degli ulema pakistani mi sembra molto importante bisogna distinguere tra quello che è la politica e quelli che sono gli interessi economici che spingono a questi attentati e quello che è invece la fede che è una cosa ben diversa ciao a tutti